Sì, è una macchia lunga e non facciamo male la fruttura, Giuseppe. Loro sono presenti entrati e tra qualcuno in per sé, hanno scritto un passaggio importante del libro, della storia del traduttore di Calabria. Tutto pronto, Christian? Alla manetta? Sì, è stato fatto, la cadena in tiro, luce della rispita. Scendiamo un po' la voce, scendiamo un po' la voce, scendiamo un po' la voce. Scendiamo un po' la voce, scendiamo un po' la voce, scendiamo un po' la voce. Scendiamo un po' la voce. Scendiamo un po' la voce. Grazie. 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 Grazie.